Un sostegno post-adozione per le famiglie che desiderano adottare un bambino. Al Palazzo della Cultura, oggi a Catania, si è tenuta la presentazione del progetto Fare Famiglia Adottiva. Il gruppo adozioni del Comune di Catania è stato realizzato in collaborazione con l'ASP3 e condivisi con il Tribunale per i Minori. Il progetto vuole incrementare i servizi alle famiglie adottive offrendo l'opportunità di un accompagnamento, un affiancamento da parte di noi operatori psicosociali con esperienza nel settore debitamente formati. È volto appunto a incrementare, rafforzare le potenzialità dei genitori nella fase del post-adozione. L'obiettivo è quello di sostenere le famiglie e soprattutto i bambini nella fase post-adozione. Diventare genitori è spesso desiderio di molti, ma se questo non può accadere, a volte si spera nell'adottare un bambino. L'adozione sembra presupporre da sempre una duplice funzione, soddisfare il bisogno di una coppia, ma cosa più importante, dare una famiglia ad un bambino. C'è da dire che dal 2007 al 2011 è stato registrato un calo del 33%, secondo un'indagine della Commissione Bicamerale per l'infanzia. In diminuzione anche gli affidi con il meno 14%. 1.000 adozioni in meno. Negli anni passati sono stati adottati 3.106 bambini stranieri contro i 4.022 del 2011. In forte calo, meno 21,7%, anche le coppie che arrivano all'adozione. 2.469 contro le 3.154. Non sono rilevanti i tempi di attesa che oggi scoraggiano però molte famiglie, ma è importante selezionare una famiglia adeguata. Quest'idea dei tempi lunghi è un luogo comune. La questione c'è dei tempi come quella dei numeri, se sono in crescita, se sono a ribasso, quindi non è rilevante. Poi per quanto riguarda c'è l'esperienza, c'è dei tribunali per i minori, almeno quello a cui appartengo, i tempi non sono lunghi. Ma dare delle famiglie a questi bambini è importante, tanto quanto dare l'attenzione al fatto se le adozioni siano in crescita o meno, quindi capire cosa può limitare tale fattore. Purtroppo non è stato possibile farsi un'idea chiara a proposito. Non è rilevante se le adozioni sono aumentate o sono diminuite. Ciò che occorre, occorrerebbe approfondire la qualità dell'adozione, la qualità e quindi il benessere, perché è determinata dal benessere di questi figli nelle famiglie. Il progetto presenta ad ogni modo un punto a favore sull'argomento adozioni, un tema delicato quanto importante. Grazie a tutti.